Sapete, per Eni è importante stare sempre più vicino agli italiani e oggi lo fa con questa iniziativa straordinaria Riparti con Eni Dalle ore 13 di sabato alle 7 di lunedì mattina in tutte le Eni Station aderenti e in modalità hyper self hai carburante di qualità a un prezzo imperdibile e uguale dappertutto Un po' come dare un passaggio agli italiani Se non partiamo così, ma quando ripartiamo? A Catanzaro, nel centro storico, in via Turco 79, impianto ACIP Eni a Catanzaro Si, abbiamo dicette così in tina, se siete Catanzaro ma ne ha promossa ... Mi saluti Ciccio Gozza, presidente, eh? Mi saluti Ciccio Gozza Grazie, grazie, è un piacere. Buongiorno a tutti Il Catanzaro che torna in prima divisione, con quali ambizioni? Le ambizioni sono di una piazza importante, perché come tutti noi sappiamo Catanzaro è stato nel passato una piazza, una zona veramente importante per tutti i sud Italia noi faremo del nostro meglio per ridare un po' di lustro a quello che nel passato c'è stato da parte nostra c'è tutto l'entusiasmo e tutto l'impegno di fare il meglio delle nostre possibilità Sono vissuti un po' di anni intripolati per il Catanzaro, adesso si guarda con fiducia al futuro Ma diciamo che negli ultimi anni il Catanzaro non si è fatto molto bene, anzi diciamo che si è fatto molto male ma nell'ultimo anno siamo stati molto bravi e fortunati a risalire, siamo ripartiti dalle genere e in solo un anno siamo arrivati in C1, questo ci dà orgoglio e ci dà un po' di buone prospettive per il futuro